Terremoto in Emilia, dieci anni dopo, era domenica 20 maggio 2012, alle 4.03 del mattino una scossa con epicentro a finale Emilia fece tremare la terra per 136 secondi, svegliando improvvisamente la popolazione della zona. L'inizio di un incubo, nove giorni dopo un altro evento di magnitudo 5.8 con epicentro tramirandola e San Felice sul Panaro, venne avvertita in tutta l'Italia settentrionale. D'altra parte, il nostro è un paese fragile con una lunga storia di violenti terremoti. Oggi in Italia abbiamo sette ricostruzioni in corso, il centro Italia, l'Aquila e il Cratere 2009, Ischia, Catania, il Molise, il Mugello e l'Emilia appunto, ciascuna con la sua governance, con regole e procedure differenti che creano un'evidente disparità di trattamento tra cittadini colpiti dalla stessa calamità. Non possiamo sapere quando arriverà un altro forte terremoto, ma è certo che accadrà e non possiamo farci trovare di nuovo impreparati, ha ribadito nei giorni scorsi il commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia, Giovanni Legnini. Per questo dobbiamo arrivare subito ad un unico codice nazionale per le ricostruzioni, che ne stabilisca modalità di gestione e procedure con una regia centrale. A gennaio 2022, ha ricordato Legnini, il governo ha varato una legge delega per l'adozione di questo codice, con la creazione di un apposito dipartimento delle ricostruzioni a Palazzo Chigi. A quattro mesi di distanza, però, la legge delega non è stata ancora incardinata in Parlamento e si restringe sempre di più il tempo utile per varare i provvedimenti attuativi entro fine legislatura. Di qui l'appello di Legnini a governo, Parlamento, a tutti i soggetti istituzionali, così come alla società civile, perché questo provvedimento trovi attuazione subito. Pensate che dal 1968 ad oggi l'esborso a carico dello Stato per la ricostruzione di immobili danneggiati da eventi sismici è stato enorme. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sulla base di atti parlamentari, calcolava nel 2014 un costo complessivo di 121 miliardi. Questa somma, rivalutata ai prezzi correnti, è pari a 159 miliardi, cui si devono aggiungere almeno 27 miliardi per i danni causati dal sisma Centro Italia ed altri 5 miliardi dovuti ai maggiori costi del sisma 2009. In totale, a prezzi correnti, parliamo di 191 miliardi di euro di danni in poco più di 50 anni.